Con la preside Martano, fiera dei suoi ragazzi che stanno per esibirsi in questa meravigliosa performance? Non fiera, fierissima dei ragazzi e delle ragazze fantastici che seguono tutte le idee innovative di un corpo docenti che devo dire vale veramente la pena di dirigere. Un percorso che si snoderà attraverso il cinema, attraverso le metafore tratte da racconti da Arturo Graziella e il Postino, film procidano d'adozione ma per eccellenza. Sì, Procida, il mare e le sue metafore è il titolo di questo omaggio dei monumenti che mettiamo in scena. Domani è un sabato pieno di ragazzi e ragazze dell'Istituto Comprensivo Capraro che dalla mattina inizieranno alle 11.30 a organizzare le visite guidate per turisti, visitatori, insomma dei piccoli cicerone che faranno scoprire le bellezze di terra murata, il monumento che abbiamo adottato quest'anno. E poi la sera il grande evento alle 20.30 a largo delle papere dove con video, momenti dal vivo, insomma colori, sprizzi e sprazzi, ecco concluderemo questo bello omaggio a Procida che anche quest'anno vede la scuola in prima fila. Parafrasando il mondo salvato dai ragazzini è Procida salvata dai ragazzini. Ah io non ne ho proprio dubbio alcuno, dai ragazzini mi piace aggiungere le ragazzine anche. Ciao!